L'indagine nasce da una serie di truffe commesse in tutta Italia in danno di istituti religiosi. La banda contattava gli appartenenti a questi istituti fingendosi impiegati dell'IMS o impiegati di banca, proponendo dei falsi finanziamenti o delle false donazioni di denaro, che però potevano essere svincolate soltanto previo pagamento di una somma che andava da 1000 a 3000 euro, che costituiva la restituzione di un'eccedenza erroneamente erogata con questi finanziamenti. Grazie.